Benvenuti. In questo video esploreremo una tecnica per mantenere la calma in ogni occasione. Dentro di te, in profondità, si cela un rifugio di calma. È un'oasi dove puoi affrontare qualsiasi tempesta che la vita ti presenti. Qui troverai conforto, forza e chiarezza. La calma non è solo un atteggiamento passivo, ma una scelta consapevole di abbracciare la serenità di fronte alle sfide. Per accedere a questa fonte di calma è fondamentale riconoscere il potere dei tuoi pensieri. La tua mente può essere come cavalli selvaggi, ma hai la capacità di guidarla e di pacificarne l'energia irrequieta con un piccolo sforzo mentale. Puoi riorientare la tua mente al momento presente con grazia. Come Tishnathan dice saggiamente, i sentimenti vanno e vengono come le nuvole in un cielo tempestoso. Il respiro consapevole diventa la tua ancora. Attraverso esso ti connetti con l'essenza più profonda di te stesso. Ogni respiro è un promemoria che sei vivo e che hai il potere di scegliere come rispondere agli eventi che ti circondano. Prenditi un momento, chiudi gli occhi e respira profondamente. Inspira lentamente, lasciando che il respiro riempia i polmoni ed espira completamente, rilasciando tensioni e preoccupazioni. Senti il movimento del petto, la forza vitale che scorre in te con ogni respiro. Permetti alla serenità di fluire attraverso di te, saturando ogni cellula e fibra del tuo essere. La resilienza è fondamentale per mantenere la calma di fronte alle avversità. È la capacità di riprendersi dopo una sfida. Come una quercia robusta, devi piegarti ai venti del cambiamento invece di spezzarti. La resilienza si alimenta con una mentalità consapevole e la volontà di vedere le sfide come opportunità di crescita. Coltivare l'arte della pausa consapevole ti permette di osservare i tuoi pensieri ed emozioni anziché esserne prigioniero. Questa pausa ti dà lo spazio per rispondere invece di reagire impulsivamente. È un momento di chiarezza e intenzione. Il linguaggio che usi ha un impatto significativo sulla tua calma interiore e sull'ambiente che ti circonda. Infondi compassione e gentilezza nelle tue parole. Questo crea un ambiente armonioso che nutre la calma in te e negli altri. Scegli le parole con cura, poiché hanno il potere di sollevare o abbattere. Abbraccia il cambiamento invece di lottare contro di esso. Trova la bellezza nelle svolte inaspettate. Rinuncia al bisogno di controllo e lasciati guidare dal flusso della vita. Questo porterà a una profonda pace e serenità. Mantieni la calma anche in mezzo al movimento e al caos, come consigliato da Deepak Chopra. Trova momenti di quiete nella frenesia della vita quotidiana. Trova conforto nella natura e ricarica le tue energie interiori. Ricorda che anche le tempeste più forti alla fine si placano, lasciando spazio al dolce calore del sole. Credi nella tua capacità di superare le sfide e emergere più forte. Nelle avversità si forgerà la tua capacità di restare calmo. Questo percorso verso la calma è una testimonianza della resilienza dello spirito umano. Ci invita a risvegliare la serenità che è già presente in noi, a rispondere con attenzione alla vita e a nutrire la nostra anima. Grazie per averci accompagnati in questo viaggio. Facci sapere se questo video ti è di ispirazione e se adotterai i nostri consigli. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video.